Come state? Ben ritrovati, un saluto a tutti, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, di iscrivervi e di lasciare un bel like qui sotto, mi raccomando. Aggiornamento sulla vicenda scommesse, allora, 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 riguarda Tonali. Tonali che almeno fino a questa mattina era ancora a Milano, poi nelle prossime ore dovrebbe tornare in Inghilterra dalla Newcastle dopo aver lasciato il ritiro azzurro per le note vicende. Cosa succede? Che, anteprima di Monica Colombo sul Corsera, sempre bravissima, dall'entourage di Tonali trapela che il giocatore ha accettato di farsi aiutare. Di fronte agli interventi, immagino anche piuttosto energici, di famiglia, d'entourage, di riso, ha evidentemente assunto coscienza, consapevolezza di avere un problema e che è il caso di farsi aiutare. Quindi, questo problema è il vizio del gioco, sapete tutti come si definisce, e andrà quindi da degli specialisti per cercare di uscire una volta per tutte da questo problema. Questo è significativo, è bene che uno si faccia aiutare, perché se diventa poi un problema grande devi farti aiutare. Dall'altra parte, in termini pratici, è di fatto, secondo me, il primo passo verso una missione di colpa. Perché se lui non avesse giocato nulla sul calcio, sarebbe uscito dal suo entourage, non ha giocato nulla sul calcio, è estraneo i fatti. Evidentemente, ecco, facciamo 2 più 2, il significato poi è anche questo. Quindi se sarà confermato, come credo, a quel punto andrà anche lui incontro a una squalifica. E' un problema serio, poi vedo che tanti danno interpretazioni diverse, io dico che è giusto che non si faccia aiutare, ma è stato comunque sciocco ad essere arrivato a tanto, perché poi la patologia subentra dopo. Tu hai iniziato e sei diventato dopo qualcosa. In ogni caso non è una giustificazione, perché allora dovremmo giustificare quello che cerchi i bambini perché è malato, no, assolutamente no. Insomma, mi fermo qui, mi fermo qui. La notizia è che ha accettato di farsi curare, ha riconosciuto di avere un problema e credo che questo sia il passo che porterà probabilmente alla missione di colpa. Ditemi che ne pensate, scatenatevi qui sotto e commentate. Un saluto. Grazie a tutti.